La zampa ferita di Alf non è guarita, è rischiuso, oltretutto è sola. Dragonfly continua a farsi vivo proprio nei momenti più difficili. Oggi è il giorno della resa dei conti. Il giorno della resa dei conti. La zampa di Alf è fuoriuso. L'enorme peso di Alf ha fracassato il cranio di Dragonfly. La sua debolezza si è trasformata in forza. Per pura fortuna, Alf, che sembrava perdente, ha avuto la meglio su due predatori. Col tempo, la ferita di Alf ha guarirà. Si accoppierà ancora e a ogni stagione deporrà uova da cui nasceranno centinaia di piccoli di saltasauro. La sua esistenza non sarà facile, ma sopravviverà fino alla vecchiaia. Ecco il destino dell'uovo di Alfa. 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 Alfa.